La vendita dell'ex probbeditorato agli studi di Sondrio è cosa fatta, la Giunta Molteni ha deliberato. A poco più di un anno dalla manifestazione di interessi da parte del potenziale compratore, il Comune ha trovato l'accordo per la cessione dello stabile di Via Sauro con il gruppo Corian, leader europeo nel settore dell'assistenza e cura già massicciamente presente in Italia con una vasta rete di strutture. A fronte di un valore dell'immobile che una perizia aveva fissato in 5 milioni, Palazzo Pretorio incasterà la somma di 2.760.000 euro corrispondenti di fatto all'originaria offerta di Corian che attraverso la controllata Segesta realizzerà qui, abbattendo l'edificio attuale e costruendone uno ex novo, alloggi protetti per 85 anziani. Il Comune ha ottenuto in contropartita anche la realizzazione di un parcheggio pubblico interrato da 50 posti che resterà di sua proprietà. Oggi le condizioni del mercato immobiliare non permettono realizzi maggiori, dice il Sindaco Molteni, soddisfatto per la conclusione di un lungo iter iniziato nel 2014 e scontratosi più volte con aste deserte e assenza di acquirenti. E anche alla luce di situazioni che leggo e che vedo in altre realtà con le difficoltà che hanno i Comuni di vendere le proprietà che non vengono più utilizzate, credo che in un percorso che è stato anche un po' lungo ma nell'ultimo anno ha avuto un'accelerazione estremamente interessante, si riesce a mettere a disposizione immobile che è solo parzialmente utilizzato per una funzione altrettanto importante, credo che un ente pubblico abbia solamente uno scopo, non lasciare lì degli immobili a rischio degrado oltre che a svalutazione economica ma di mettere a disposizione per nuove funzioni. Con l'acconto da mezzo milione il Comune metterà mano alla ristrutturazione di un altro stabile, l'ex mensa di Via Lungo Mallero dove troverà posto la civica scuola di musica, già individuata anche la nuova sede per il coro Città di Sondrio desda Ciatellini. Entro il 30 novembre il nuovo proprietario presenterà il progetto di recupero con una bozza di convenzione. Il saldo è previsto per il 30 aprile 2018, contestualmente alla consegna dell'immobile quando inizieranno i lavori per la nuova residenza per anziani. La lettura dell'evoluzione della società porta a dire che gli enti locali e tutto il sistema pubblico ma anche privato deve mettere in atto tutte le soluzioni possibili per rispondere all'invecchiamento della popolazione. Nella nostra città avere due RSA prestigiose e di alta qualità, una serie di alloggi protetti che vanno dalla Fondazione Longoni rispetto ad altre iniziative private, a queste si aggiunge questa iniziativa. 85 persone che troveranno spazio in mini alloggi protetti mi pare una soluzione estremamente interessante. La città da ulteriori servizi. Un altro elemento che non è marginale è che verranno occupate circa 35 persone in quella struttura al servizio degli abitanti della struttura stessa.